WAHE KUCHI, BELLA RETODI LA VOSTO, ANDRE IN CRONTUNE IN QUESTO NUOVO EPISODIO DI POKEMON QUEST, DIREI ANCHE FINALMENTE Praticamente l'ultimo episodio dovrei averlo caricato settimana scorsa forse E invece no Non so quando caricherò questo ma comunque sia sto registrando davvero tanto tempo dopo aver registrato l'ultimo Quindi insomma di tempo ne è passato però E la squadra insomma non è che sia diventata chissà cosa eh Però ho giocato pochissimo, ho solo ritirato le ricompense giornaliere che poi andremo a vedere Anzi sapete che facciamo? Andiamo a vederle adesso Così poi l'esplorazione la facciamo con più calma, siamo più tranquilli Dunque decorazioni Potrei anche comprare delle espansioni ma per il momento no Quindi andrei subito sulle decorazioni che posso metterne tante? Posso metterne davvero tante Ok allora andiamo un po' a sferso Pikachu cos'è che fa? Che i piatti attirano più di un Pokémon subito assolutamente sì Possiamo comprarci un sacco di roba Capacità batteria uno in più ok va grande Ora devo comprare però delle cose precise Ingredienti grigi compra Ok poi Cuscino Jotion compra Fiorera di Venusaur Ingredienti gialli compra Compro tutto compro ragazzi Modellino Premier Ball Copon ottenibili come bonus fedeltà più 10 Ah ok Ok un attimo voglio fare degli acquisti un attimino più oculati No possibile tramite sparring Perché comunque sia Ok questo qui voglio assolutamente E poi insomma Palloncino Miao Tenibili con i riciclabili Assolutamente Slot multiuso anche interessante Però compriamo un palloncino Miao Oh che bello Andiamo a metterlo Intanto il resto me lo tengo Magari comprerò altro più in là Ottimo E quindi Ora riceviamo anche più punti bonus Bello bello mi piace Stiamo anziando davvero ad avanzare molto velocemente nel gioco in questa maniera È da tanto che volevo affrontare un nuovo livello Un nuovo percorso Nuove sfide Oh qua sarà difficile Grotta Barlumi Bonus di tipo psico Ma quanto Effettivamente Servire al tipo psico Qui dentro Mi da un bonus Di 2000 punti Errotti Uh bella Geni siamo con Pokémon Che con lo psico Hanno poco a che vedere A parte Gastly Gastly è più Veleno spettro Sì vabbè Contro lo psico Ok Ma questo ti sembra un Pokémon Debole al tipo psico Attenzione Se questi farmano ingredienti gialli Ci vengo spesso A lottare Non mi tiro di certo indietro Gli è rimasta L'animazione ma c'è già Hunter Come Pokémon Boss Ok Attenzione Sarà utile Eh sì Anche gli attacchi normali Sono efficaci Ma dai Davvero? E andate via Ma è pure confuso Dai Ma questo è una mangiaccolazione Dai che ci vuole Via Fatto Grotto a Barlumi Già il primo livello è andato Mi servivano proprio Gli gialli Gli gialli I gialli Per trovare Determinati tipi di Pokémon A parte lo psico Anche il tipo lotta Mi sembra E il tipo acqua Il tipo roccia Ci vuole Gli strumenti gialli E quelli grigi Quindi mi serviva proprio Mi serviva Che incontriamo? Magnemite Proprio Tipo psico Approved Eh Mamma mia Che sniacchera Che li ha tirati Spam Tra capo e collo Anzi Sul magnete Perché magnete Non ha capo E non ha collo È un magnete È una palla di ferro Una palla Non ha né capo Né coda Electrode Oh ragazzi No 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 Ragazzi in fretta Bravi Se quello esplode Fa danni Fa tanti danni Attacco esplosione È pauroso Qui eh Nuovo metagame Vai vai Perfetto Oh ok Siamo a Pokémon Dominante Poi dominante Vabbè io lo chiamo dominante Il boss dell'area Vediamo un po' Chi è L'ho detto io Che è qua Tipo psico Forse Forse Gli ultimi livelli E forse Ma non l'ha preso Attenzione Caluta Massi Cos'era Fategli di male Fategli di male I miei Pokémon I miei Prodi Lancia Massi Cos'era Sassai 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 Sassaiola Com'è Sassaiola C'è un mosto Pokémon Che si chiama Sassaiola Mi sembra Missione acciaio Sconfiggi 50 Pokémon Di tipo acciaio Poi il gioco Ti esorta No prova a fare le missioni Gli obiettivi avanzati Ma sono quelli più facili Uno dice Eh no I più facili sono gli altri Che basta che esplori Ma non è vero Ci vuole un buon team Per arrivare qui Ragazzi Già Non è neanche il boss Ed è 13500 Il livello 5 Se tornassi a giocare Attivo Come facevo Proprio all'inizio Potrei farcela Tranquillamente In poco tempo Il problema è che Con questo caldo Non c'ho voglia Proprio Davvero Ho una fiacca Davvero tremenda Magari se prendo Non sto bevendo caffè Quindi mi sento ancora peggio Tipo se prendo un caffè Pomeriggio Un po' mi Un po' mi riprendo Ma davvero ragazzi È dura Con sto caldo Che poi dove abito io C'è L'umidità Al 150% Io non sto scherzando Siamo oltre 100% Di umidità Fa un caldo Ragazzi Che si crepa D'inverno Vabbè sto bene Perché mi piace il freddo Ma L'estate è da morire Se qui segna 30 gradi In realtà sono 40 C'è la mattina Senza che accendi I fornelli Tipo fa due uova Vella fuori Spiace chi sulla macchina Varca miseria Uguale Giuro Oh Dugong Se ne può anche andare Cos'è? Mulinello Basta Mi ha scassato le pokeball Oh E dai E vai via Che c'è 15.004 Il boss Wow E' fattibile Però E' fattibile Dovrò spremermi un po' di più Cioè io non faccio nulla Più che altro Ah ma mi sembrava prime Mannaggia la morte Prime mi sembrava Cabotops Ma perché mi fate questi scherzoni Voi Machop Vabbè si In teoria è normale Ok Ecco le qua Degli altri Sgraffiamoli tutti E poi annaffiamoli Con un po' di cascata Guarda qui C'è palestrato Giorgio Giorgio No 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 Mena 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 È morto Ok Morto È andato K.O. È andato a dormire Riposare Non è che i pokemon muoiono Cioè si muoiono Ma non in questa maniera Ragazzi Quando state comodi Attaccate Non voglio fare ripressione Un magneton Perché? Non come Ma perché? Perché mi dai il bonus Di tipo psico E poi c'è magneton? Basta Che disastro Che caos Non si capisce niente Vai E dai Fanno solo confusione Non ti fanno capire nulla O sono troppo vecchio io Per 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 Sostenere Tutto quanto questo Non lo so A funzionare Un po' di meno Bagnacauda Alla cubetti Sheldr Che non No ce l'avevo già Sheldr Sì Già trovato Uno Sheldr Più che altro Sto cercando Di vedere Se i pokemon D'acqua O i pokemon Di roccia Aiutano A ricevere I punti A cabutops Non capisco quali Perché roccia Da pochi punti Acqua pure Decidetevi Tipo invece La kazam Con cadabra Con abra Non cadabra Con abra Perché i pokemon Evoluti Non si possono trovare Con abra Sale Che è una bellezza Quindi Oh che attacco è questo Molinello Molinello Vedi Quello prima Molinello Ci aveva allora Ma qua fanno le torri Pokemon Ma che è Lascia fare Non voglio Toccare nulla Voglio guadagnare Un po' di strumenti E poi torno a cucinare A bestia O a bestia All'accento Fate come volete Non sono io A dirvi come dovete parlare Tranne un certo video Che farò Quando avrò voglia E tempo E quando farà Magari più fresco No 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 Ma cloister Perché cloister Ci stiamo avvicinando In zone dove ci sono Le ostriche Fatemi capire Che poi in realtà La parte centrale Di cloister Quella nera Dove ci sono gli occhi E molla Quindi è molto debole A parte che c'è Una difesa speciale Che è alta Ma in realtà Con un turbo fuoco Di un charizard Crepa mare Davvero eh Non so Non capisco mai Questa cosa Con il turbo fuoco Di un charizard Il cloister Di Lorelai Se voi usate Turbo fuoco Di un charizard Almeno al 70 Va KO Non ho mai capito Come funziona Sta cosa io eh Davvero è È assurdo Come discorso Però funziona così Mamma mia Jinx è tosto E resiste Ma cosa succede? È lì Guarda Quel Quel seal Ce lo facciamo Insaccato Che dà un sacco Di proteine Quindi Quando vai a fare I pesi in palestra Stai tranquillo Puoi bruciare Quante ne vuoi Che i muscoli Sono ben protetti No ragazzi No ragazzi però Jinx Tu sei una mariatrice Non mi puoi addormentare I pokemon Così però eh C'è la sleep close Qui? Perché al massimo Te ne addormenta due Però uno Deve resta sveglio Eh Oh grazie Eh vabbè 33 oggetti Vabbè una volta Più di più Non ho ricevuti Quindi Però Sempre Sempre il piacere Fa Cuj Ci siamo Allora L'ultima sfida Contro il boss Ce la faccio Non ce la faccio Se ce la faccio È meglio Almeno Evito di stoppare La registrazione E riprenderla In un secondo momento Anche perché La switch Frigge dentro La switch Il switch Lo switch In teoriale Console nintendo Sono maschili Ma Tant'è La console nintendo switch Frigge dentro Alla dock O il dock Perché tutto Ma tutto maschile E comparto nintendo Eh È mamma Eh La mamma fa i maschi È un vecchio detto Che ho sentito Ho sentito in giro Questo detto Ma Boh È la versione rivisitata Di Ci vogliono le femmine Per fare i maschi È la versione rivista Quella che ho detto io Però Va bene uguale Quindi Nella dock O nel dock La console Nintendo switch Frigge male Quindi Cerco di giocarci Pochissimo Anzi È la prima vera volta Che sto sperimentando Nintendo switch Handled Perché Se no Comunque Sto giocando Pochissimo Poi questo inverno Però Quando uscirà Pokémon per switch La distruggo Proprio La faccio fondere Per quanto ci giocherò Dai dai Ci siamo quasi Alla fine Del percorso Ragazzi Miei No 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 Perché Ma Così me lo dici Oh C'è Gengar Grazie Addolciscimi Un po' La pillola Mettimi Degli Haunterini Che stanno In giro No Lì Tanto in quando Vengono Invece No Wow Bene Riprendiamo Praticamente Da dove Ho lasciato E Intanto Controllo Se è tutto Quanto a posto Sì Ok Dunque Qui Mancava il boss Da fare Che era un Gengar Non mi sono Allenato Praticamente Per nulla Ok La luce Sta crollando Ma Non mi sono Allenato Praticamente Per nulla Vabbè Come viene Viene La registrazione Non ho tempo Comunque Sì Andiamo Ad affrontare Gengar Dovrei Essere In grado Di farlo Senza Alcun Tipo Di Problema Speriamo Bene Speriamo Davvero Bene Perché Anche Anche Perché Poi Con l'attacco Graffio Resco a colpire Comunque Sia Pokémon Di tipo Spettro Ed è Una Cosa Bellissima Molto Molto Bella Anche Perché È Normale Dice Non è Che Mo Perché Se uno Si Porta Pokémon Di tipo Normale Non è Che Deve Forza Portarsi Altri Per Sconfigge Tipo Spettro Glielo Facciamo Sconfigge Comunque Perché Noi Siamo Delle Persone Brave Anche Se ancora Non ho capito Chi è che Sviluppa Questo Gioco Quale Compagnia Quale Software House Va Bene Dunque 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 Manca Un'altra Ondata Forse Un'altra Due E poi Dopo C'è Il Boss Magneton Sì Sì Mi Ricordo Di Lui È Una Piaga Eccolo Qua Infatti Un'altro Va Viene Pete Dai Ragazzi No 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 Cos'era Scarica No Scarica Scarica Questa Scarica Fulmine No Forse Si Fulmine Poteva Essere No Ragazzi Se Questo Esplode Alla Fine Do Dove La No Salvato Per Un Pelo Miracolo Sono Stato Miracolato Sento Poco L'audio Perché Sto Giocando Senza Cuffie Quindi L'ho Messo Basso Ma Sento Sento Come Sia Solo Rumori Strani Non Musica Solo Rumore Sento Mamma Mia Però Cos'è Gengar O Cosa Non È Bammete Vai Così Anche io sto facendo un po' di casino Anche se casino è una brutta parola non si dovrebbe dire O meglio più d'altro ha perso il suo uso originario negli anni 50 Più o meno Però Diciamo che casino erano le case chiuse Oggi non si usa più dire casino Scappa 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 Mi ha preso? Non lo so Mi ha preso ora Dannazione Oddio Kabutops Tutte e due? Ehm Scusi Signor Gengar Ma sarà che lei è un po' Pezzetto di Pezzetto di tanto Oh oh Chi ritorna Kabutops Oh 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 Signor Gengaru No Non ti azzardare Gengar Gengar Cattivo No Attenzione però Torna E lui si sveglia E alla Kazamu E alla Kazam Alla Kazam Ce la può fare Sì alla Kazam Grande Tanto avevo altri 6 tentativi Quindi ce l'avrei fatta comunque prima o poi Insisti Riprova Insisti Riprova Alla fine ce la fai E ce l'ho fatta Sono tutti quanti livello alto Sto farmando un po' di pokemon di tipo lotta per aumentare il livello a prime ape Uff Sono contento così Vediamo un po' cosa ci dice ora Abbiamo sconfitto tutti i pokemon di quest'area La statua longevità Complimenti Tutti gli alleati fino al livello 50 riceveranno più PE esplorando l'isola Quelli di livello più alto no Oh una nuova statua È la statua longevità Raffigura Arbok Forse veniva considerato un simbolo dei Rinascita per la sua muta O magari il sovereno letale ispirava un timore reverenziale Hmm Sapete che facciamo ora? Un altro livello Il primo Almeno il primo livello Dell'altra area Qui vicino c'è un'altra area da esplorare Forza andiamo Ancora una Sì ancora una Poké B Intanto faccio il primo livello Massimo due di quell'area Allora Questo ce l'abbiamo Vediamo un po' Ultimo Lido Infatti ancora uno Iniziamolo intanto Così almeno finisco di fare la cucina E poi Ne metto a fare un'altra Magari Gioco per conto mio Mi alleno un pochettino I poliswag Poliwiri Pokémon più bello Ti ho amato Più tutto Veramente Charizard è meglio Però È troppo mainstream Dicono i Charizard Ma chi se ne frega A me piace Charizard Io amo Charizard Guarda Pure sopra l'acqua Jesus Attack Non so quanto Quanto può essere Blasfemo Una cosa del genere Ma penso non lo sia No? Va bene Sì ragazzi Però voi avete senso Di violentamento Di Zoro di One Piece Da tutt'altra parte Andate Sta lì A due passi Lo vedete no? Pokimans in arrivo Anzi dovrebbero dire Si dovrebbe dire Puchimans Quando è così Non Pokimans Ma Puchimans Bambino A te cosa piace giocare? Pokémon Pokémon? Che piace giocare? Pokémon! Pokémon? Pokémon Con la Poké Con la Mane Vecchia perla Dei Simpsons Che sicuramente Voi non conoscerete Perché siete troppo giovani Vai vai Così Starmi è il boss Di quest'area Ma Che ci vuole Quella mammoletta In realtà Starmi su Pokémon Rosso Verde Rosso fuoco Verde foglia Blu Giallo Insomma tutti quanti La prima gen È Una piaga Sconfiggerlo Non crepa mai Sta sempre lì È impossibile Da abbattere Specialmente se scegli Charmander Come starter Per questo video è tutto Vi ricordo in descrizione I link per Twitter E Instagram E noi ci vediamo Come sempre domani Con dei nuovi video Bye bye E noi ci vediamo Ciao Ciao